Ciao a tutti Guerrieri e Guerrieri Sailor, io sono Ferdinand e sono un gran fan di Sailor Moon Oggi non si parla di Sailor Moon, anzi è un video-vlog Sono insieme a Siria Siria, fatti vedere Eccoci E... andiamo Questo è il primo video Dove dobbiamo andare, Siria? Di qua Ok, andiamo di qua Come dice lei Di qua dove andiamo andata Questo è il primo video Non mi vedete perchè sono in mezzo alla luce dei santi Questo è il primo video Nei 33 anni, tecnicamente Ho mia madre Oggi e domani A casa Quindi non ho potuto registrare La settimana scorsa Per colpa dello studio Per colpa di... cioè Per colpa di anche... Perchè dove ho portare lei giù Non ho potuto registrare altri video E... Oggi Che è lunedì 26 novembre 2018 Penso che lo vedrete oggi Oggi O lo vedrete domani Ora non lo so Perchè poi registrerò Altri due video Una è la... Mi è arrivata la The Fan Box di novembre L'unboxing della... The Fan Box E... L'altro video Sarebbe una... Specie di... Mega Hall Però in realtà Sono regali di compleanno Alcuni sono auto... Regali di compleanno Perchè sono andato... Da... Cioè... Sono regali di compleanno Tutti provenienti da H&M Quindi non faccio nessun... 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 Nessuna pubblicità da H&M Ritorno subito Perchè ci sono delle persone Quindi non posso far... Mostrarle Allora... Il telefono me l'ha staccato E l'ho messo in pausa Praticamente stavo dicendo Probabilmente vedrete questo video O lunedì Che è oggi O... Oppure martedì Non so Però ci sono altri video Da fare Tra cui quello di... Ehm... Quello che avevo accennato prima Poi mi dovrebbe arrivare Un altro altro regalo di compleanno Da Amazon A tema DSC Comics Quindi sto aspettando Poi vedremo a metà mese Se riuscire a prendere anche gli altri volumi Dei manga di Dragon Ball Poi devo studiare Per questo famoso esame Devo comprare un libro di 18€ Poi il fatto che lei Mi pretende che io paghi tra tutto le bollette E quindi alla fine Tocca sempre con me È un gabbiano? Boh... Non lo so... C'è lei che sta male Perché ha vomitato stamattina Sono arrivata a casa dal tirocinio lavorativo Mi è stato detto da mia madre che aveva vomitato due volte Ora sta mangiando l'erba E lei ovviamente Non mi cammina Quindi è una cosa che io non capisco Perché Si deve mangiare l'erba infilandosi in posti strani Mangia, mangia l'erba eh! Mi sta guardando che l'ho nominata Qui c'è... C'è tutte le persone con i cani E il problema è che io per privacy Non posso far mostrare loro E ho detto Tanto registro qui Il solito parco dove vado E ha piovuto da giorni che piove Adesso stasera Oggi pomeriggio perché sono le 6 E mi esce le stelle E escono anche le persone con i funghi Per cui ho detto E' l'unico posto in qui dove posso registrare il blog Non mi posso neanche sedere perché Bagnato le foglie è tutto C'è lei che mi continua a tirarmi E io non capisco il perché Mentre un altro cane che abbaia Non so per quale motivo Ma vuole giocare qui nel legno Deve non venire di qua Ehm... Non lo so Vi lascio con le immagini ovviamente Di questa notte che sembra notte ma in realtà è pomeriggio Poi cercherò Poi cercherò infatti di modere Farò Volevo dire cercherò in tutti i modi di Chiudere Il blog Se me lo dà Comunque Ehm... Prima di Farvi vedere le clip Ehm... Come ho detto i soldi sono arrivati Di attiricione operativo sabato Dovevo andare a pagare oggi ma non sono riuscito Dovrei pagare domani questa bolletta che è di 100 euro Che è vista giustamente Intestata a me E... Sono molto contento devo dire la verità Ehm... Non contento nel senso della bolletta Sono molto contento perché in questo Ci sono autoregali in arrivo E... Quest'anno è stato autoregali più a tema di DSC Comics che Sailor Moon Ehm... Natale... Ehm... Allora... Sabato ho ordinato la The Fan Box di Dicembre Che il tema è Natale Nerd quindi Ehm... Quindi le ultime due L'ultima del 2018 Quella di Dicembre 2018 Di The Fan Box viene assolutamente Ehm... Poi vedremo a Gennaio 2019 Che... Che... Ehm... Che tema sarà se mi piace o non mi piace Ehm... Poi... Vediamo un po' di capire Lei ha fatto tutto C'ho la cacca Il sacchetto con la cacca Ehm... Farò dei clip Poi... Aspetto che queste due se ne vanno Poi i cami E poi Chiudere il vlog Sì... 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 Bé... Poi.. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, secondo me qui va bene. Allora, io chiudo i vlog, spero di editarlo, spero di farcela di editarlo stesso il lunedì 26. Silia, non mi tirare. Ehm... Vabbè, se è un fan si è affiliato ad Amazon, il mio secondo canale, i RandomTuberBoys che sono arrivati ai 100 iscritti, i canali dei ragazzi di SailorTeam, da Framormate Channel, la Shinigami Peef, Z16, Luca Metablixi e tanti altri che troverete, se è chiaraccio, se è giorni, forse ti troverete nell'info box. Io non so cosa ci sarà dopo. Dopo questo video, se uscirà prima, quindi ci sarà l'unboxing, unboxing, spero di averla detta, questa va la detta G, della Def Unbox di novembre 2018. se non, se ne viene, esce dopo, adesso non so cosa ci sia. Questo è il mio primo video da 33enne, lo ripeto, a Google. Quindi che ho visto qualcuno. Vabbè, mi aveva vomitato durante una ripresa di un video. Perché avevo fatto delle clip così, a me avevo vomitato davanti a me. Vabbè, ci vediamo al prossimo video. Siria, saluta! Siria? Siria, saluta! Eh? Tutti quanti vedono. Vabbè, è l'unica cosa che mi ha detto. Ma! Ciao! Ma qui forse piove? Boh, non lo so, perché non capisco se sto è, se i servizi è, se i exchange. Ma stamattina non mi fanno fare nulla. Siria, andiamo su. È tardi. Ma! Oh! Stei! Oh! 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 Grazie a tutti.